Dall'alba di questa mattina i finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanzieria di Palermo e della Compagnia di Marsala stanno eseguendo nelle province di Palermo e Trapani 13 provvedimenti di fermo di indiziato di delitto nei confronti di altrettanti soggetti di nazionalità tunisina, italiana e marocchina appartenenti a un'organizzazione criminale di carattere trasnazionale dedita al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e al contrabbando di tabacchi lavorati esteri. Le fiamme gialle stanno inoltre eseguendo numerose perquisizioni presso le abitazioni e i luoghi utilizzati dal sodalizio come basi operative per la gestione dei traffici illeciti. L'associazione, capeggiata da pericolosi pregiudicati tunisini, operava prevalentemente mediante trasporti veloci per i quali utilizzava gommoni carenati con potenti motori fuori bordo ed esperti scafisti nel braccio di mare tra la provincia tunisina e quella di Trapani consentendo agli immigrati clandestini di raggiungere in poco meno di 4 ore di navigazione le coste italiane. Ogni viaggio per il quale venivano imbarcate dalle 10 alle 15 persone con costi pro capite tra i 3.000 e i 5.000 euro a testa prevedeva anche il trasporto di sigarette di contrabbando destinate al mercato nero italiano, in particolare a quello palermitano. Per la conduzione del lucroso traffico, che poteva fruttare complessivamente tra i 30.000 e i 70.000 euro a viaggio, era stata predisposta un'efficiente rete organizzativa che contava sull'operato di elementi tunisini, italiani e marocchini in posizione subordinata che si occupavano di fornire ai clandestini un vero e proprio servizio shuttle dalle spiagge di sbarco sino alle basi logistiche dell'organizzazione, laddove, una volta rifocillati e forniti di vestiti, i migranti potevano liberamente raggiungere le destinazioni desiderate. Inoltre il sodalizio si occupava della ricezione e stoccaggio delle sigarette di contrabbando, nonché della loro successiva collocazione presso le reti di minuta vendita, che nello specifico caso facevano capo ad una donna di nazionalità italiana, identificata quale vertice di una più ampia rete illegale di vendita di prodotti di contrabbando destinati al mercato palermitano e anch'essa destinataria di misure restrittive della libertà personale. Le attività di monitoraggio investigativo inoltre hanno permesso di appurare che operavano anche alcuni soggetti con orientamenti tipici dell'islamismo radicale di natura jihadista, che palesavano atteggiamenti ostili alla cultura occidentale, anche mediante propaganda attuata attraverso falsi profili attivati su piattaforme social. In una conversazione intercettata, infatti, tra il promotore dell'organizzazione e uno dei sodali, si è apprezzata l'intenzione di quest'ultimo di recarsi in Francia, dove avrebbe compiuto azioni pericolose a seguito delle quali avrebbe potuto non fare ritorno, invitando pertanto l'interlocutore a pregare per lui. L'organizzazione smantellata, con l'estate ormai alle porte, sarebbe stata in grado di compiere almeno due traversate alla settimana tra la Tunisia e l'Italia, con introiti che ne avrebbero rafforzato l'operatività e la pericolosità sociale e criminale. I fermi fanno seguito all'originaria operazione denominata Scorpion Fish, che nel 2017 ha consentito di disarticolare un'altra pericolosa organizzazione criminale operante tra il Trapanese e l'Agrigentino.